L'esistenza! 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 Noi siamo il popolo! Noi siamo il popolo! Vi dovete aiutare! Solo voi vi potete aiutare! L'Uriberga! 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 L'esistenza! 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 Traditore di merda! Bastardi! Sono messi i coglioni! L'esistenza! Bastardi! L'Uriberga! 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 Tornati! Guardatevi che c'è una ripatestina! L'Uriberga! 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 Forse, forse, perché voi non avete visto le palle che ci hanno rifilato, non le avete viste, ci stanno chiudendo, ci fanno perdere il lavoro, hanno svenduto l'Italia e li difendete. Sì, menano te, menano tutti, non hai ancora capito, amici? Che cazzo, togliti la tua, vai lì e digli qualcosa, vai lì, diglielo in faccia, non te la pigliare con me, io me la piglio con te perché non sei da solo, sei in mezzo a mille persone. Sì, è certo che stai fatti stai tutto, ti dicono proprio che loro e non piglielo mazzate tutti, hai capito? Eh, ma che cazzo vuoi ancora? Eh, no, eh, non credo, non credo, non credo, non credo, non credo, non credo. E chi spinge a chi, signorino? Non mi credo, non è. Assassini! Governo criminale, governo criminale! Il popolo, siamo noi il popolo! Noi siamo il popolo italiano! Fari, fari, fai, 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 fai! Sono seguita da nessuno, sono libera. Ma non può? Non lavoro, non mi interessa, non c'è da di cazzo. Non c'è da nessuno, non c'è da nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.